L'assessorato all'ambiente del comune di Oristano ha disposto la distribuzione gratuita dei sacchetti per la differenziata. La distribuzione sarà effettuata dal lunedì 26 novembre fino al 5 gennaio nella parrocchia di San Giovanni Evangelista, dall'8 gennaio nella parrocchia di San Paolo Apostolo. La distribuzione sarà effettuata dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, il sabato solo la mattina.